Buongiorno e benvenuti all'appuntamento delle 12.30 con l'informazione su Telefriuli. La nuova ordinanza Fedriga con la stretta sumovida e shopping entra in vigore da sabato, ma resta d'attesa per le decisioni che il Governo prenderà oggi sull'eventuale passaggio di alcune regioni dalla fascia gialla a quella arancione o rossa. Vediamo il servizio. Entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi la nuova ordinanza regionale che il Presidente Fedriga ha condiviso con i colleghi di Veneto ed Emilia Romagna. Il Governatore del Friuli Venezia Giulia ha sottolineato più volte che obiettivo delle nuove misure non è quello di evitare il passaggio dalla zona gialla ad una con restrizioni maggiori, ma solo la volontà di contrastare l'avanzata del virus. Proprio per oggi è attesa comunque la decisione del Governo sull'eventuale passaggio ad arancione o rosso delle regioni attualmente a livello giallo dall'erta coronavirus, tra le quali appunto ci sono anche Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto. I numeri che ci portiamo in eredità da ieri parlano di nove decessi con Covid-19 e 838 nuovi contagi a fronte di 7.529 tamponi effettuati. Si tratta del secondo picco per numero di casi accertati nello storico regionale da inizio pandemia. Il precedente record risale al 7 novembre, quando sono stati registrati 872 casi, ma con un migliaio di tamponi in più rispetto a quelli eseguiti ieri. Fedriga ha detto che l'indice RT risulta in calo nella nostra regione. Intanto il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, incaricato anche del piano di distribuzione dei vaccini anti-Covid, ha parlato di prime dosi disponibili in Italia a fine gennaio, ma non subito per tutti. Si è ipotizzato l'impiego dell'esercito per dare una mano nella distribuzione. E dopo il premier Conte, anche il ministro per gli affari regionali Boccia si è appellato ai cittadini affinché trascorrano il Natale in compagnia solo dei familiari più stretti. E vediamo nel prossimo servizio quali sono i principali contenuti della nuova ordinanza firmata ieri dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. L'ultimo appello, poco via. Massimiliano Fedriga, Luca Zai e Stefano Bonaccini varano tre ordinanze ai comuni per ridurre il più possibile gli spostamenti cercando di arginare il contagio da SARS-CoV-2, un documento condiviso con il ministro della Salute Roberto Speranza. Va detto che il passaggio da una zona gialla a quella attuale a una con più restrizioni dipende dai numeri e non da una possibile decisione politica. Rispetto alle anticipazioni non ci sono novità. Permane la possibilità di muoversi tra i comuni. Nelle giornate festive e prefestive gli esercizi di media e grande struttura, sopra i 400 metri quadrati, rimangono chiusi. Per evitare, come lo scorso weekend, la fuga dei corregionari verso gli outlet del Veneto. Le domeniche, inoltre, ai festivi è vietata ogni tipo di vendita in tutti i negozi, tranne farmacie, parafarmacie, generi alimentari, edicole e tabacchi. Rimane sempre consentita la consegna a domicilio. Le prime due ore delle aperture, quindi dalle 8 alle 10, dovranno essere preferibilmente rivolte agli over 65, che comunque potranno sempre fare compere a qualsiasi orario, anche se sconsigliato. Obbligo di indossare sempre la mascherina quando si esce dalla propria abitazione, ad eccezione di minori di 6 anni, persone con patologie mediche e chi si sposta con mezzi privati con soli conviventi. Sul fronte delle attività motori all'aperto, questa deve essere svolta preferibilmente in parchi pubblici, aree periferiche, e sempre nel rispetto della distanza di almeno 2 metri, ma non si potrà più correre in piazze e strade del centro storico affollate. L'accesso agli esercizi di vendita è consentito a una persona per nucleo familiare, a eccezione dei minori di 14 anni e persone con difficoltà. I mercati saranno consentiti solo previa consegna di un piano di perimetrazione, con separazione dei varchi in ingresso e uscita, e una sorveglianza che verifichi il rispetto del distanziamento sociale e il divieto di assembramenti. A scuola è sospesa in tutte le classi l'educazione fisica, il canto e gli strumenti a fiato. Infine, i locali pubblici, dalle 15 sarà impossibile consumare i piedi e il giro per la strada, traducendo fino alle 18, quando scatterà la chiusura, se non per asporto e domicilio, bisognerà essere seduti. Questo significa niente gelato passeggiando, o sprizzi in piedi, o caffè al bancone. Maxi, sequestro di mascherine non conformi al confine di Fernetti. A bloccare il carico, diretto a un'azienda italiana che poi avrebbe provveduto alla commercializzazione dei dispositivi di protezione delle vie aere contro il Covid-19, sono stati i militari della Guardia di Finanza della tenenza di Muggia. Nell'ambito dei servizi predisposti per il controllo economico del territorio, le fiamme gialle di Trieste hanno sequestrato, in prossimità del valico di confine di Fernetti, a Trieste, 360.000 dispositivi di protezione individuale facciale, le cosiddette mascherine chirurgiche, erano pronte per essere messe in commercio sul mercato nazionale. In particolare, i finanzieri della tenenza di Muggia hanno intercettato un trasporto commerciale proveniente dalla Slovacchia e destinato a una società a responsabilità limitata con sedia Prato, società che poi si sarebbe occupata della successiva commercializzazione. A seguito del controllo del furgone, ovvero è stato stipato l'ingente quantitativo di mascherine non conformi, è stata acclarata la mancanza della valida documentazione tecnica di supporto, utile accertare l'effettivo possesso di tutti i requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, presidi prescritti dalle disposizioni nazionali e comunitarie, applicabili appunto a questi dispositivi. Inoltre, le singole confezioni di mascherine recavano la marcatura CE, seguita dall'indicazione di uno standard comunitario di sicurezza errato e comunque tale da indurre confusione nel consumatore finale circa la destinazione d'uso e i requisiti di prestazione. Le mascherine quindi sono state sottoposte a sequestro amministrativo per la violazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, con l'applicazione della sanzione amministrativa al titolare dei beni. Il valore commerciale dei dispositivi, una volta immessi sul mercato, sarebbe stato pari a 180 mila euro. Siamo alla cronaca, non lo sentiva da giorni e si è preoccupato, temendo potesse essere accaduto qualcosa di brutto. Così ha chiamato il 112 mettendo in moto la macchina dei soccorsi. È successo nel pomeriggio di ieri a Trieste, in una zona periferica della città. I pompieri hanno aperto la porta e hanno fatto la triste scoperta. L'uomo, 70 anni, che viveva da solo, era morto, deceduto diversi giorni fa a causa di un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Ci hanno chiamato eroi Covid, ma ora ci sentiamo abbandonati. Infermieri e os hanno organizzato questa mattina un picchetto all'esterno dell'ospedale di Udine. Affrontiamo questa seconda ondata della pandemia, raccontano, con addosso ancora tutta la stanchezza della prima. Perché chi è in prima linea e che vive una realtà parallela, completamente diversa alle cose che ci vengono annunciate, veramente non si capacita. Cioè fino a 20 giorni fa sentivamo dichiarazioni che quasi non serviva personale. Chiedono di lavorare in sicurezza, in particolare ora che sono impegnati in prima linea nell'affrontare l'emergenza pandemica, ma anche un giusto riconoscimento economico per lo straordinario effettuato, oltre ad un piano straordinario di assunzioni e il rinnovo dei contratti nazionali ormai scaduti. Con queste motivazioni stamattina è stato organizzato all'esterno del Santa Maria della Misericordia di Udine il picchetto di protesta dei lavoratori della sanità, organizzato dalle sigle dei servizi pubblici di CGL, CISLE e UIL. Quello che serve in questo momento è assumere, assumere e assumere. Mancano infermieri, operatori social sanitari, assistenti sanitari, che sono una figura quasi in via d'estinzione di Friuli Venezia Giulia, tecnici e quant'altre figure per sostenere questo sistema. Un sistema che sta andando al tracollo. Ci sono ospedali che hanno mandato a casa, direttori generali che hanno mandato a casa tempi determinati, invece di tenerli sul campo, di formarli nel dubbio che arrivi veramente la seconda ondata. Il personale è stanco anche? Il personale è stanco e molto provato. Sono stanchi perché si sentono maltrattati, tra virgolette. Da eroi oggi siamo diventati carne da macello. Al fianco di infermieri e os si sono schierati i lavoratori impiegati nelle cooperative sociali che operano nei settori socioassistenziali educativi in appalto, oggi in sciopero. Percepiscono 5 euro l'ora ed è vergognoso, sono in prima linea, sono a stretto contatto col mondo Covid e non si fa niente affinché le attribuzioni vengano nella zona dell'attemino e quindi essere rapportate a quelle degli altri lavoratori. Ci sono le nostre donne delle pulizie nelle fabbriche, negli ospedali, negli uffici. Da oltre 7 anni e mezzo attendiamo il rinnovo del contratto nazionale. Chiediamo sicurezza, chiediamo diritti, chiediamo un contratto, chiediamo salario. E i lavoratori della sanità hanno manifestato anche questa mattina a Trieste, al Cattinara. Paghe decenti per quelli che vengono chiamati gli eroi, però poi da eroi vengono trattati ben poco. Direi che vengono trattati per nulla eroi, perché alla fine se guardiamo quello che sta accadendo oggi sicuramente la situazione è particolarmente critica, in quanto si evidenzia la carenza di personale che a mio avviso ormai sta diventando cronica. Questo mette in grossa sofferenza il personale che deve comunque sobbarcarsi orari che sono gravosi. A questo si aggiunge sicuramente un malcontento, che è quello legato alla condizione economica che indubbiamente lascia un malcontento fra il personale che noi di poco punto. Noi chiediamo sicuramente l'incremento di quel che è l'attuale personale esistente. Ci rendiamo conto che oggi sul mercato purtroppo non ci sono grosse possibilità, perché usciranno 70 infermieri in breve, speriamo che le aziende siano comunque veloci nell'assumerli. Ieri so che hanno chiuso con un concorso per 40 assistenti sanitari, ma mi auguro che le procedure non siano le solite, che evidentemente mettono una situazione faraginosa che prima di assumerli ci vogliono 2-3-4 mesi. Oggi l'urgenza è di assumerli immediatamente la prossima settimana. Oltre a questo vanno riconosciuti comunque gli sforzi che il personale fa. E questo vuol dire comunque prevedere degli incentivi aggiuntivi rispetto a quel che era fino ad oggi lo stipendio che, ahimè, lascia desiderare per lo sforzo che fanno tutti gli infermieri, gli OS e gli assistenti sanitari. Anche l'Udinese tra le nove società di cui l'Antitrust ha rilevato clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite di calcio. Lo si legge nella nota ufficiale diffusa dalla stessa autorità alla chiusura dei procedimenti di accertamento iniziati il 7 gennaio 2020. Si tratta di clausole che non riconoscono il diritto di ottenere il rimborso di tutto o parte dell'abbonamento o del singolo biglietto in caso di chiusura dello stadio o di rinvio di partita qualora la responsabilità sia imputabile alla società calcistica, ma anche ad altri fattori. Nel mirino dell'autorità, oltre all'Udinese, è anche Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa e Atalanta. Per quanto riguarda il Friulano, come riporta l'Antitrust nella nota, l'autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento, sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti. L'Antitrust ha chiesto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla home page dei siti web delle nuove società per 30 giorni consecutivi. Ancora cronaca, intervento dei vigili del fuoco del comando di Udine poco prima delle 20 di ieri lungo l'autostrada A23 in carreggiata nord, nel territorio del comune di Coloredo di Monte Albano. Per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri, intervenuti sul posto insieme alla polizia stradale e insieme ai mezzi meccanici di autostrade per l'Italia, una bisarca si è incendiata, pare per guasto di natura elettrica. Trasportava due furgoni, i danni sono ingenti per il carico distrutto, salva la motrice, ma nessuna persona è rimasta ferita. Era stata l'unica gara del suo genere a non arrendersi e a provare a organizzare comunque la propria edizione 2020, ma il rinvio da giugno a dicembre non è bastato. L'International Sky Race Carnia si arrende alla seconda ondata e rimanda tutto all'11 aprile, ma non si salterà un'edizione, per giugno 2021 ha infatti già fissato la prossima. Anche il secondo tentativo di regalare agli appassionati sportivi della corsa in montagna e sky running un'importante gara del calendario 2020 è fallito. L'International Sky Race Carnia, nella sua tredicesima edizione, era già stata rinviata in prima battuta dal 21 giugno 2020 al 6 dicembre. Una Sky di Fondovalle che avrebbe toccato tutti i paesi della conca dell'Alto Woot per una distanza complessiva di 21 chilometri. A poche settimane dalla manifestazione, il comitato organizzatore ha deciso però di rinviare ulteriormente l'evento a domenica 11 aprile 2021 con la conferma del nuovo percorso di Fondovalle. Lo abbiamo fatto nel rispetto degli operatori sanitari, delle forze dell'ordine, dei sindaci e dei volontari impegnati nella lotta contro questa pandemia, spiegano. Ringraziamo tutti gli atleti che si erano già iscritti, circa 100 per i quali la quota di iscrizione sarà rimborsata. Considerando che il percorso è un inedito, si potrà partecipare alla Virtua Sky Race Carnia alla mezza d'inverno che sarà aperta il 22 novembre e si concluderà il 6 dicembre utilizzando l'applicazione Strava. Il prossimo anno, dunque, l'11 aprile, si correrà la tredicesima edizione mentre il 20 giugno si correrà la quattordicesima edizione sul nuovo percorso con partenza-arrivo da Paluzza e la salita al Monte Paolaro a quota 2.048 metri, 26 chilometri e di slivello complessivo di 2.200 metri. Il Tg finisce qui, ma rimanete con noi, c'è a voi la linea. Grazie! Grazie a tutti! Grazie per la visione!